E' dello Spirito Santo. Amen. Amén. E' il secondo giorno dei nostri esercizi spirituali che caratterizzano la quinta settimana di Quaresima. E' anche stasera abbiamo iniziato ascoltando il canto che ci ricorda l'incontro di Gesù con la Samaritana. Perché noi vogliamo fare la stessa esperienza che ha fatto quella donna. Quando incontrando Gesù ha fatto esperienza del suo amore, della sua attenzione. Ricorderete come in quel lungo incontro che abbiamo ascoltato nella terza domenica di Quaresima Gesù fa verità nella vita della donna. Che mentre all'inizio non conosceva Gesù, mentre al centro del racconto pensava fosse il profeta, un profeta, alla fine crede. Alla fine crede che lui è davvero quel Messia che il popolo di Israele stava aspettando. Insieme a lei anche tutti gli abitanti, i suoi conterranei. Allora gli esercizi spirituali, anche in questa seconda tappa, possono essere per noi l'occasione per fare entrare Gesù nella nostra vita e per fare verità. Lo dicevamo già ieri. Verità nel nostro rapporto con Dio e nel nostro rapporto con i fratelli. Verità, quella verità che viene dall'eocarestia, che non è un segno eclatante, ma che è il segno, il gesto che Dio nel suo figlio compie per la nostra salvezza. Questa sera e domani sera ci soffermeremo sul capitolo 5 di Marco che dal versetto 21 al versetto 42 ci racconta di due miracoli. Vi dicevo ieri sera l'intenzione di queste tre sere è quella di poter verificare, riflettere su come Dio interviene nella nostra vita, compiendo non miracoli fine a se stessi, ma gesti che siano di salvezza. In questi versetti del capitolo 5 Marco ci racconta della morte della figlia di Gairo e incastonato dentro a questo racconto la storia di una donna, un'emorroissa, che innanzitutto vi leggo dal versetto 25 al versetto 34 del capitolo 5 di Marco. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo, «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero, «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici, chi mi ha toccato?». Egli guardava attorno per vedere con lei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse, «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e si guarita dal tuo male». Qui il racconto, come abbiamo fatto ieri sera, proviamo ad entrare adesso in profondità, perché non vogliamo cadere nel rischio di quella lettura superficiale che ci fa vedere soltanto un miracolo. Una donna che ha un bisogno, Gesù che interviene in maniera eclatante per compiere il miracolo, per soddisfare un bisogno. Nei primi tre versetti, 25, 26 e 27, è descritto il problema della donna. La donna ha una perdita di sangue continua ed è una annotazione molto importante perché avere un'emorragia esterna, una perdita esterna di sangue, comportava, oltre che un problema medico oggettivo, anche un problema dai tanti risvolti religiosi e sociali. Vi leggo innanzitutto Levitico 15, 19, 21. Una donna che ha flusso di sangue, cioè il flusso nel suo corpo, rimarrà nella sua impurità mestruale per sette giorni. Chiunque la tocca è impuro fino alla sera. Qualunque cosa su cui si ponga a giacere o vi si segga durante le sue regole è impura. Chiunque tocca il suo giaciglio dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e resterà impuro fino alla sera. Questa è una delle tante norme che è raccolta nel libro delle norme, che è appunto il libro del Levitico, che riguarda, in modo particolare, questa la donna che ha il flusso di sangue, fra l'altro regolare, ma in ogni caso la qualsiasi tipo di ferita, qualsiasi tipo di fuoriuscita di sangue, tanto per l'uomo quanto per la donna, rappresentava motivo di impurità e rappresentava soprattutto l'obbligo di allontanarsi da tutti. Perché, come abbiamo ascoltato, chiunque tocca il suo giaciglio dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua, resterà impuro fino alla sera. Praticamente, la donna, e in modo particolare questa donna di cui parliamo, ascoltando questo brano di Vangelo, non ha nessuna possibilità di una vita normale. Nessuna possibilità di relazione. Praticamente, immaginate, tutta una vita in quarantena, come stiamo vivendo noi in questi giorni, senza possibilità di relazioni, al di fuori della nostra casa. E se già per noi è una grande sofferenza, se noi già stiamo contando i giorni, da quando tutto questo è cominciato, ma soprattutto desideriamo che questo finisca quanto prima, immaginate la donna, che della quarantena, per utilizzare questo termine molto attuale, ha dovuto fare la sua condizione di vita. nessuna possibilità di vita normale. Questa donna è condannata ad essere impura. Ogni giorno, in ogni relazione che lei è vietata, lei deve ricordarsi di essere impura. Ancora, l'Evangelista nota che la donna si trovava in questa condizione da dodici anni. E quando noi sentiamo dodici nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, nella scrittura, sappiamo già che il dodici rappresenta il numero della pienezza. L'Evangelista ci dice che il suo è un dolore pieno e al tempo stesso un dolore perfetto. Quanta solitudine in quelle distanze che le venivano imposte da una condizione di malattia che già era chiamata a vivere. Quanta sofferenza in quella distanza che doveva rispettare ogni giorno della sua vita da tutto il mondo. E ancora una volta vi invito a pensare quanta sofferenza facciamo noi a vivere quello che ormai abbiamo imparato a chiamare distanziamento sociale che pure sappiamo essere per un tempo limitato. La donna lo doveva vivere ogni giorno della sua vita. Per cui, come vi dicevo all'inizio, il suo è un problema che oltre che essere medico diventa anche religioso e quindi sociale e impura agli occhi di tutta la comunità e lei deve comportarsi da impura deve stare a distanza non può frequentare nessuno non può avere relazioni non può condurre una vita normale. Ma non finisce qui la descrizione che l'Evangelista fa dei problemi di questa donna. La donna ha speso tutti i suoi soldi per consultare i medici non avendo mai nessun vantaggio anzi, dice l'Evangelista sperimentava un peggioramento delle sue condizioni per cui la donna si ritrova in una perdita continua e potremmo dire anche definitiva una lunga e inesorabile agonia ci ha raccontato l'Evangelista Marco ha perso ogni relazione perché impura ha perso tutti i suoi averi girando consultando medici e non riuscendo ad ottenere nessuna soluzione ha perso anche il suo futuro non ha da dove ripartire ha una legge che la inchioda che la rende impura non ha più soldi non ha più soluzioni l'Evangelista Marco ci descrive una situazione che è davvero inchiodata alla rassegnazione non si può andare oltre il quadro che l'Evangelista Marco ha appena descritto subito noi siamo chiamati allora a verificare anche il nostro cammino nella vita il cammino di fede perché anche noi rischiamo di vivere e troppe volte non ce ne accorgiamo una continua perdita di tempo di forza di energia e a volte anche di speranza certamente questi giorni in cui siamo costretti a fare verifica della nostra vita questo ce lo stanno insegnando quante volte abbiamo gestito male quel tempo che avevamo in abbondanza a disposizione quante volte l'abbiamo sprecato l'abbiamo perso non l'abbiamo dedicato alle persone o alle situazioni più opportune che ce lo richiedevano quante volte abbiamo sprecato forza energia e creatività per delle situazioni che non erano quelle più importanti per noi che non erano quelle più importanti per la comunità ma soprattutto quante volte abbiamo perso la speranza perché ci trovavamo davanti problemi che abbiamo ritenuto problemi seri per cui valeva la pena addirittura diventare tristi rassegnarsi e non andare più avanti il nulla che la donna si ritrova tra le mani nella sua vita è troppe volte il nulla che anche noi ci ritroviamo tra le mani pur avendo tutto a disposizione ma quando lo abbiamo impiegato male ci ritroviamo davvero consapevoli di aver perso tutto anche la speranza ma è a questo punto che l'Evangelista racconta un cambiamento nello scenario generale che abbiamo finora descritto perché dice l'Evangelista Marco udito parlare di Gesù venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello una donna che era consapevole di aver perso tutto appena sente parlare di Gesù ricomincia a vivere ricomincia a sperare sente parlare di Gesù non c'è detto non è dato sapere se questa donna è fino in fondo attenta oppure è talmente forte l'eco che l'annuncio di Gesù ha attorno a lei che sente quasi naturalmente il passaggio di Gesù che sente quasi naturalmente parlare di Gesù però è certo che l'ascolto diventa il primo momento della nostra rinascita il primo fondamentale momento che ci permette di rialzarci da quella perdita continua di tempo di forza di energia e di speranza quanto poca importanza diamo noi all'ascolto della parola di Dio che passa nelle nostre celebrazioni comunitarie che passa negli incontri che abbiamo quotidianamente con le persone che incontriamo che passa nel silenzio che dobbiamo dare a Dio proprio per poter ascoltare la sua parola non possiamo prescindere dall'ascolto apriamo subito una parentesi vedete noi siamo purtroppo abituati male a sbilanciare la celebrazione eucaristica verso la seconda parte lì dove c'è la consacrazione e poi si va verso la comunione sacramentale momento certamente vertice culmine di quell'azione di quella celebrazione che ogni domenica compiamo e però così continuamente snobbiamo mortifichiamo chiudiamo le orecchie a quella parola che nella prima parte della messa viene proclamata e rischiamo di non comprendere quello che avviene nella nostra vita perché non abbiamo ascoltato le meraviglie che il Signore compie non abbiamo ascoltato la sua parola allora la rinascita nella nel contesto di perdita continua che tante volte noi sperimentiamo la rinascita parte dall'ascolto e dobbiamo abituarci ad ascoltare la parola di Dio e la liturgia è maestra proprio nella celebrazione eucaristica dobbiamo abituarci ad ascoltare perché possiamo sentire che Gesù sta passando e quindi ricominciare e quindi rialzarci la donna sente parlare di Gesù si infila in mezzo alla folla ci dice l'evangelista Marco lei che non potrebbe e non dovrebbe per tutto quello che abbiamo detto nella prima parte di questa riflessione ma poi arriva Gesù da dietro non vuole farsi vedere non può farsi vedere lei sta compiendo un gesto che non le è consentito ma pensa se riuscirò a toccargli anche solo le vesti sarò salva questa è la professione di fede dell'emorroissa non certo una professione di fede piena completa totale potrebbe certamente essere anche l'ultimo tentativo di una donna che ha perso ogni possibilità e quindi si ritrova davanti l'ultima spiaggia e prova però arriva addirittura a pensare non posso toccare il maestro non posso toccare Gesù ma se riuscirò a toccargli anche solo le vesti sarò salva ora su questa espressione dobbiamo fermarci perché l'evangelista Marco racchiude un grande significato in questo tentativo riuscito della donna di toccare anche solo le vesti di Gesù perché innanzitutto è chiaro che Gesù indossa un mantello probabilmente a una lettura superficiale non ci avremmo fatto caso ma in una riflessione più approfondita certamente la nostra attenzione va sul fatto che Gesù indossa un mantello e in realtà è il mantello che tutti i maestri tutti i rabbì tutti coloro che erano riconosciuti come insegnanti come autentici come coloro che autenticamente interpretavano la legge in realtà indossavano è il mantello della preghiera il mantello che si indossava soprattutto nel tempio ma che in questo caso Gesù indossa anche nel suo procedere tra la folla tra la gente allora l'evangelista Marco ci sta dicendo che nella preghiera la donna può toccare il Signore che nella preghiera noi possiamo toccare il Signore Gesù ha un mantello che sta a indicare il momento della preghiera la donna tocca esattamente quel mantello che serve per la preghiera nella preghiera tocca il Signore nella preghiera possiamo toccare il Signore allora vedete quando noi concretamente possiamo toccare il mantello di Gesù quando noi come la donna in maniera anche coraggiosa audace possiamo pensare di compiere questo gesto di fiducia nei confronti di Gesù di esperienza però intima e profonda della sua presenza e della sua persona nella comunità che prega innanzitutto la comunità che prega è quel mantello di Gesù che noi possiamo toccare credo non ci sia tanto bisogno di ritornare su sull'importanza della comunità perché è questo periodo che ci sta facendo comprendere quanto sia importante per noi la comunità pensavamo di poterne fare a meno quante volte riuniti nella comunità innanzitutto per la celebrazione eucaristica ma anche per tutte le altre attività che caratterizzano il cammino della comunità quante volte abbiamo ritenuto poco importante la presenza dei fratelli a volte anche fastidiosa la presenza dei fratelli questo periodo in realtà ci ha ricordato forse ci ha detto in maniera chiara per la prima volta che noi di quei fratelli a volte anche fastidiosi abbiamo avuto sempre bisogno e abbiamo ancora oggi bisogno che noi di tutte quelle dinamiche che avvengono nella comunità parrocchiale come in tutte le famiglie come in tutte in tutti i luoghi dove gli uomini e le donne si incontrano noi di tutte quelle dinamiche che a volte sono anche le liti le incomprensioni le difficoltà noi ne abbiamo bisogno per crescere per non essere soli ogni giorno la comunità che prega che vive la sua quotidianità ricevendo dal Signore il nutrimento della parola e dell'eocarestia e annunciando al mondo l'esperienza che ha fatto di Gesù questa comunità e quel mantello che noi possiamo toccare per risollevarci dalla perdita continua di tempo di energia di creatività di speranza ancora un gesto di carità è certamente il mantello che noi possiamo toccare per arrivare a Gesù neanche nelle emergenze possiamo dimenticare la carità ieri proprio abbiamo visto come si declina la compassione di Cristo c'è una folla che ha bisogno allora Gesù invita i suoi apostoli a prendere consapevolezza di quel bisogno e a fare esperienza di misericordia chiama Filippo e dice come possiamo fare per dare da mangiare a questa folla prende il poco il nulla del ragazzo che ha cinque pane e due pesci e lo fa diventare la possibilità di nutrire e di sfamare la fame di tutta quella folla ieri già vi esortavo a continuare questa maratona di solidarietà che si è messa in moto ancora oggi con tante con tanti contributi perché chi è meno fortunato di noi sempre ma a maggior ragione in questo periodo possano rimanere indietro per oggi voglio declinare ancora meglio se è possibile questo gesto di carità che noi dobbiamo compiere perché è molto importante dare da mangiare ovviamente a chi potrebbe non avere neanche questo ma diventa altrettanto importante in questo momento pensare che noi siamo tutti fratelli e sorelle anche chi purtroppo può contrarre il contagio del virus abbiamo assistito assistiamo ancora oggi a scene a frasi di condanna nei confronti di chi è tornato dal nord nei confronti di chi ha esigenze particolari in questo periodo siamo presi dalla caccia all'untore vogliamo capire sapere se c'è un positivo se ce ne sono due tre o dieci perché perché vogliamo trattarli come l'emorroissa non entro nel merito delle precauzioni e di tutte le indicazioni che dobbiamo rispettare quarantena isolamento obbligatorio non entro in questo merito anzi ovviamente incoraggio tutti a seguire le indicazioni che chi ci governa ci dà ogni giorno ma attenzione a pensare che chi si trova fuori dalla casa dalla propria casa è colui che in questo momento sta creando il problema che chi è tornato a casa propria è colui che sta creando il problema dobbiamo stare attenti perché il gesto di carità si configura anche come la possibilità di sentirci oggi una sola comunità che combatte contro una malattia non contro chi è malato e noi corriamo sempre il rischio di dimenticare la differenza perché chi è malato va curato chi è malato ha bisogno di solidarietà non di sentirsi additato come il colpevole del contagio che si diffonde un gesto di carità anche in questi termini è il mantello di Gesù che noi possiamo toccare per fare esperienza della sua salvezza e poi come dicevo prima la parola di Dio è il mantello di Gesù che noi tocchiamo per sperimentare che Lui è presente che Lui ci parla che Lui traccia la strada la più opportuna non la più semplice ma la più opportuna per noi quella che certamente condurrà alla meta in questi giorni in cui per forza di cosa abbiamo più tempo libero in questi giorni in cui i nostri ritmi sono più lenti approfittiamo per aprire la Bibbia per ascoltare la sua parola possiamo seguire il cammino che la liturgia ci indica ogni giorno oppure possiamo scegliere di leggere un libro dall'inizio alla fine ma mettiamoci in ascolto della parola perché diventa quella consolazione che il Signore ci dona perché diventa quell'oasi nel deserto che ci dà il coraggio la forza di non cadere sotto il peso della stanchezza ma di continuare con entusiasmo la comunità che prega un gesto di carità la parola di Dio in questo momento ma sempre in ogni caso diventano quel mantello di Gesù che noi siamo chiamati a toccare e a desiderare proprio come la donna emorroissa andiamo avanti perché dopo aver toccato il mantello di Gesù dice l'Evangelista Marco subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male immediatamente la sorgente del suo sangue si seccò e tutto questo lei lo sente nel suo corpo sentì nel suo corpo che era guarita dal male non è stata la donna a contaminare Cristo come la legge avrebbe certamente indicato la donna non doveva avvicinarsi a nessuno perché poteva contaminare con la sua impurità ma è stato Cristo a guarire la donna e questo contatto tra la donna e Gesù diventa il momento iniziale di una guarigione profonda che va molto al di là della guarigione fisica che dura da adesso per tutta la vita questo è il messaggio profondo che l'evangelista Marco ci dà quando annota era guarita dal male il ministero di Gesù è proprio quello di liberarci dal male e la guarigione fisica diventa un segno di quello che Gesù compie del ministero che Gesù è venuto a realizzare per liberarci dalle forze del male del demonio che ci allontanano da lui la donna ha avuto un contatto con Gesù che è soltanto l'inizio di un cammino che adesso deve condurre a partire da questo evento decisivo di salvezza Gesù chiede essendosi reso conto della forza che era uscita da lui chi ha toccato le mie vesti Gesù sente che da sé è uscita una forza perché come dicevamo già ieri Gesù non è distributore di servizi e non è neanche dispensatore di guarigioni se fosse questo il tratto essenziale di Gesù non ci sarebbe nulla di particolare non è l'unico uomo nella storia dell'umanità che ha operato guarigioni lui non è venuto a dispensare guarigioni fisiche Gesù partecipa al dolore del malato lo assume e se ne fa carico ricordate già ieri vede la folla vede il bisogno e prova compassione ora anche in questo caso Gesù non dispensa guarigioni ma partecipa al dolore dell'emorroissa lo assume su di sé se ne vuole fare carico lo vuole condividere ancora una volta si mette in moto quel dinamismo di compassione che lo coinvolge completamente nelle nostre vicende che non lo fa rimanere spettatore più o meno interessato del nostro bisogno ma che lo fa calare esattamente nella realtà del nostro dolore Gesù è lì che non si accontenta di sentire che una forza è uscita da sé ma vuole sapere perché e verso chi è andata questa forza si guardava attorno per vedere la donna che aveva fatto ciò allora la donna timorosa e tremante ben sapendo ciò che le era accaduto si avvicinò gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità è veramente fonte di consolazione poter sentire come l'evangelista Marco adesso descrive la donna una donna che aveva perduto tutto la cui situazione era bloccata nella sua malattia e nella sua impurità adesso è capace di timore non di paura ma di timore cioè è capace di stupore diventa consapevole della grandezza di Dio ritorna a sperimentare che la vita è fatta anche di esperienze belle e questo timore questo stupore questa meraviglia le permette di gettarsi ai piedi di Gesù e di raccontare tutta la verità al tempo di Gesù una donna non era autorizzata a parlare se non attraverso il marito era il marito lo sposo che poteva dire alla donna che poteva autorizzare la donna a parlare a raccontare a testimoniare vedete esattamente quello che viene qui però stavolta è lo sposo è Gesù lo sposo di tutta l'umanità lo sposo della Chiesa che nasce dalla sua Pasqua che autorizza la donna a testimoniare che la accompagna nel suo ritorno nella società si avvicina gli si getta i piedi come fanno i discepoli che hanno sperimentato la salvezza che viene dal Maestro e testimonia e annuncia è una scena di una grandezza di una solennità che davvero allarga il cuore lo sposo Gesù lo sposo della Chiesa lo sposo dei salvati autorizza la donna a testimoniare la rende discepola la reintroduce nella società quella società da cui la malattia il male l'aveva esclusa e la risposta di Gesù riassume tutto questo figlia la tua fede ti ha salvata vai in pace e si guarita dal tuo male Gesù ribadisce che il miracolo ha bisogno della fede di chi lo chiede perché il miracolo è segno della salvezza non è mai fine a se stesso Gesù non compie miracoli nei confronti di chi non crede la donna dicevamo all'inizio vuole toccare il mantello di Gesù certamente non è una professione di fede piena dicevamo ma comunque una professione di fede comunque riconosce che da lì può ripartire la speranza lì c'è ancora un tentativo da fare ora quando noi riceviamo il miracolo e il miracolo più bello che tutti noi abbiamo ricevuto è quello del battesimo anche lì è richiesta la partecipazione della fede dei nostri genitori padrino madrina della comunità tutta ma c'è sempre una fede che deve scommettersi che deve manifestarsi che deve pronunciarsi perché nessun segno è fine a se stesso ma è tutto perché noi possiamo vivere pienamente il nostro rapporto di discepoli nei confronti di Gesù la tua fede ti ha salvata notate non la tua fede ti ha guarita ma la tua fede ti ha salvata e qui dobbiamo chiarire una volta per tutte che mentre la guarigione non è per tutti ma è per alcuni ed è il segno della salvezza la salvezza invece è per tutti allora noi che oggi leggiamo il segno del miracolo compiuto nei confronti dell'emorroissa cogliamo la volontà di salvezza di Dio nei confronti di ciascuno non saremo probabilmente guariti dalle nostre malattie quelle piccole grandi quelle quotidiane fisiche spirituali che ci portiamo giorno dopo giorno ne facciamo i conti ogni giorno con loro dobbiamo purtroppo conviverci quante volte con la malattia però attenzione perché nel segno del miracolo compiuto nei confronti dell'emorroissa così come in ogni altro miracolo compiuto nel Vangelo compiuto nella storia della Chiesa in ciascuno di questi segni Gesù continua a dirci che per tutti è la salvezza che questa frase la tua fede ti ha salvato ti ha salvato è quella frase che Gesù pronuncia nei confronti di tutti quando con la fede ci gettiamo ai suoi piedi e gli chiediamo di poter essere discepoli di testimoniare tutta la verità la verità del suo annuncio e come dicevo questo è un cammino che comincia con il battesimo e che ci accompagna per tutta la nostra vita figlia Gesù dice alla donna figlia la donna che era rimasta sola perché impura adesso si ritrova in una nuova famiglia dove non c'è più nessuna distinzione tra puri e impuri ma l'uguaglianza vera tra i figli non è più una donna impura e quindi diversa dai puri adesso è figlia e fa parte di questa grande famiglia che come dicevo prima è inaugurata dallo sposo dalla Pasqua di Cristo e in questa grande famiglia proprio a partire dal battesimo c'è un unico padre e tutti noi grazie al figlio Gesù siamo figli tutti uguali nella diversità dei carismi certo dei doni delle potenzialità delle creatività ma tutti uguali non c'è più nessuna caccia all'untore di cui ci dobbiamo rendere protagonisti perché siamo tutti salvati perché siamo tutti uguali non c'è più distinzione tra puri e impuri ma l'uguaglianza dei figli e ogni domenica a messa si realizza esattamente questo siamo tutti invitati all'unica mensa perché tutti abbiamo ricevuto l'unico battesimo e perché siamo convocati dal padre dal figlio e dallo spirito santo dall'unico dio che ci salva e siccome la donna è salvata come dicevamo poc'anzi per questo può andare in pace è il congedo di gesù va in pace la pace nasce dalla salvezza dall'incontro con dio che nel suo figlio ci rende figli è il congedo di ogni domenica la messa è finita andate in pace glorificate il signore con la vostra vita andate in pace siccome abbiamo sperimentato l'incontro con gesù la comunità che prega la parola che abbiamo ascoltato il gesto di carità e che poi nella celebrazione eucaristica è anche quell'offerta che siamo chiamati a mettere a condividere siccome abbiamo toccato il mantello di gesù attraverso queste esperienze concrete adesso gesù ci dice sei figlio ancora una volta è sperimentato questa figliolanza adottiva che ti rende uguale nell'assemblea a tutti gli altri fratelli adesso vai in pace adesso hai il nutrimento fondamentale per vivere la tua vita nella pace ma quella vera nella pace che è dono di dio che nessun altro potrebbe donare ma solo questo incontro con gesù allora come dovremmo essere pieni di pace quando ogni domenica usciamo dalla celebrazione eucaristica e come quella pace dovrebbe guidare caratterizzare ogni nostra parola ogni nostro gesto durante tutta la settimana l'incontro con gesù procura pace la pace vera vai in pace e sii guarita dal tuo male il bene ricevuto da gesù adesso deve progredire in uno stile di vita fatto di relazioni vere alla luce della relazione fondante con gesù vai in pace e sii guarita dal tuo male notate è già stata guarita addirittura è già stata salvata ma c'è una guarigione e c'è una salvezza che è quotidiana che è progressiva che è il nostro camminare nella relazione con gesù nell'incontro con lui e quindi nella relazione vera con tutti gli altri perché il miracolo vero è proprio la possibilità di avere una relazione vera con il padre e con i fratelli siamo partiti dall'impossibilità della donna di avere relazioni era una continua quarantena sempre chiusa a casa sempre lontano da ogni rapporto siamo arrivati alla possibilità di un incontro che prima ha sperimentato con gesù gli si getta i piedi gli racconta tutta la verità si fa sua discepola e quindi può diventare relazione di ogni giorno vai in pace sii guarita dal tuo male adesso adotto uno stile di vita che sia veramente da figlia e da salvata questo è il cammino che anche noi siamo chiamati a fare nella nostra vita sempre ogni giorno camminiamo a partire dall'incontro con gesù a partire da quel mantello che abbiamo toccato e verso la verità nelle relazioni con i fratelli ma poi ci sono periodi della nostra vita in cui questa verifica si fa più forte la quaresima è certamente uno di questi periodi la celebrazione della pasqua sarà quella possibilità di toccare il mantello in maniera ancora più forte in maniera ancora più decisiva anche quest'anno anche lontano dalle chiese anche senza poter partecipare fisicamente ai riti della pasqua ma anche quest'anno toccheremo il suo mantello perché le nostre perdite le nostre sconfitte il nostro zero il nostro nulla possa diventare quell'invito di Gesù la tua fede ti ha salvato vai in pace e si guarito dal tuo male allora vogliamo concludere stasera anche stasera chiedendo l'intercessione della Madonna la seconda sera è sempre più breve la più breve delle tre negli esercizi e quindi in anticipo rispetto a ieri sera concludiamo affidandoci alla Madonna con quella preghiera che è la più antica che la Chiesa abbia mai rivolto a lei e che adesso insieme vogliamo rivolgere soprattutto alla nostra patrona alla Madonna della neve perché non ci lasci mai soli nella prova ma ci incoraggi e ci accompagni verso l'incontro con Gesù sotto la tua protezione cerchiamo un rifugio Santa Madre di Dio non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo o Vergine gloriosa e benedetta benediciamo il Signore rendiamo grazie a Dio cuore a cuore ti parlerò nessun male più ti colpirà il tuo Dio non dovrai premere grazie a Dio